Un posto al sole, anticipazioni del gennaio, Alice mette Elena contro Angela. La puntata di Un posto al sole di questo giovedì 12 gennaio 2023 è densa di nuovi intrighi e inaspettate alleanze. Le anticipazioni si concentrano su Alice e Nunzio e gli sviluppi che sta portando la delicata e spinosa questione che si è creata. Marina ha creduto alla nipote, tanto da aver fatto vedere a Raffaele i polsi di Alice. Rossi per la stretta troppo forte di Camarota. Nunzio, dal canto suo, ha ammesso le proprie colpe davanti a Franco, Giulia e Angela, ma respingendo le infamanti accusi di Alice. C'è tuttavia chi ha ancora qualche dubbio sull'innocenza di Nunzio, e tra questi c'è Renato. Nel frattempo, Alice continua con la sua opera di convincimento con Marina ed Elena, se la prima vuole giustizia. la seconda inizia a sospettare del suo resoconto, ricco di contraddizioni e mezze verità. Nelle precedenti puntate di Un posto al sole, Nunzio ha trovato conforto sia in Franco che in Angela. Anche se indispettiti e attoniti per quanto successo, sono certi che non abbia fatto alcun male ad Alice. Ormai ossessionata da lui è pronta a tutto pur di non ammettere le sue bugie. Intanto Silvia ha imparato a conoscere bene Camarota, lavorando con lui e a stretto contatto al bar Vulcano. Sa che è un bravo ragazzo e sa anche che Alice è una ragazza un po' leggera e inaffidabile. Essendo molto giovane e desiderosa di vivere la vita al massimo. Nunzio troverà così in Silvia non solo una datrice di lavoro, ma anche una cara amica. che si schiererà dalla sua parte, dandogli dei preziosi consigli per tentare di risolvere la situazione. Continuando con le anticipazioni di Un posto al sole, le bugie di Alice causeranno dissidi anche tra due amiche di lunga data. Che si sono sempre supportate e volute bene. Parliamo di Angela e di Elena, che rischieranno di portare la questione Alice Nunzio in tribunale. Viola, anch'essa molto legata a Elena e Angela, proverà a fare da mediatrice. Ma con scarsi risultati. Ormai, il limite è stato superato. Infine, le anticipazioni di Un posto al sole della puntata che andrà in onda questo giovedì 12 gennaio 2023 su Rai 3. Vedranno anche i tentativi di Michaela di sedurre Samuel, che sarà sul punto di cedere alla sua avvenenza, con grande rabbia di Mariella. A proposito di Mariella, ecco che avrà un altro incontro particolare con Serena, che metterà alla prova il loro rapporto.